Ciao, sono Marenco Ho cancellato, ho cancellato, ho pagliato Vai, mi rifai Ciao, buongiorno a tutti Sono Pittavino Matteo di Carglass Vedete questa schedatura? Un dosso e il vetro è da sostituire Invece se chiamavate me con la polizza cristalli Veniva gratuito, o se no me lo sostituivo No, che cazzo sto dicendo? La rifacciamo Ciao, sono Matteo Pittavino di Carglass Vedete questa schedatura? Un dosso e la schedatura si è allargata Adesso il vetro è da sostituire Invece se chiamavate me con la polizza cristalli Veniva gratuito Carglass impara, Carglass sostituisce Grazie a tutti